Bing fino all'altro ieri era il motore di ricerca reietto era lo sfigato dei motori di ricerca non c'era nessuna comparazione rispetto a Google tant'è che le quote di mercato variavano tipo di 95 a 3 una cosa del genere non è cambiato molto come motore di ricerca ma Microsoft ha aggiunto appunto la possibilità di avere un chatbot e quindi basato su chat GPT addirittura la versione 4 ma ha dato un'altra possibilità incredibile ultimamente che è quella di poter creare delle immagini quindi sfruttando il motore di Dali che è un altro prodotto di OpenAI per la text to image quindi la creazione, generazione di immagini a partire da un prompt testuale, da una descrizione testuale allora si possono fare per esempio degli esperimenti straordinari rifammi la gioconda di Leonardo nello stile un po' geometrico di Mondrian e vengono fuori appunto queste cose molto interessanti, molto intriganti il limite è soltanto la nostra fantasia allora mi è venuto in mente una cosa è in grado questa intelligenza artificiale di essere più intelligente di noi nel immaginare quello che sarà e allora mi è venuto in mente un esempio tra il fine dell'ottocento e il inizio novecento l'artista Cotè produce con alcuni suoi colleghi una serie di illustrazioni dal titolo l'anno 2000 immaginavano la vita nel futuro alcune cose non è che si siano proprio realizzate in realtà noi qua negli anni, nel nuovo millennio mettiamola così, stiamo ancora qua a spararci per pezzi di terra come in Palestina o in Ucraina però lasciamo perdere l'attualità e quindi ho pensato ma se io creo un'immagine che non esiste che possa immaginare il futuro vediamo che cosa salta fuori io quantomeno a Bing glielo chiedo quindi gli posso chiedere come sarebbe Milano nel 2100 se noi non facessimo niente per contrastare il surriscaldamento della atmosfera e quindi il cambiamento climatico ed effettivamente Bing mi risponde Bing mi dà quattro alternative non abbiamo tantissimo modo di intervenire con parametri quindi per esempio non posso dirgli di farmi l'immagine in 16 noni cosa che invece posso fare direttamente su Dali che adesso è aggiunto alla versione 3 ed è anche integrato nel chat GPT Plus e infatti l'immagine viene diversa e comunque secondo me anche un po' inquietante